E' quindi il pane che sazia la fame di ogni umanità. Pace e bene. Vi mostro una scheda elettorale e dei soldi. Dimmi da chi ti fai governare e ti dirò che cosa sei. Ordinariamente l'uomo è condizionato nelle sue scelte da queste cose. Cosa ci dice però la parola aperta? Entriamo anche questa settimana. In quel tempo disse Pilato a Gesù Tu sei il re dei giudei? Gesù rispose Dici questo da te oppure altri te l'hanno detto sul mio conto? Pilato rispose Sono io forse giudeo? La tua gente e i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto? rispose Gesù Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei ma il mio regno non è di qua giù. Allora Pilato gli disse Dunque tu sei re? rispose Gesù Tu lo dici Io sono re Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo per rendere testimonianza alla verità chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Gesù Gesù è re nostro re ma il suo regno non è di questo mondo che significa? Prima di tutto che Gesù è il Signore e non ci governa alla maniera umana ma divina nulla prende dall'uomo ma dona la sua vita per la sua dignità e la sua gioia. Non lo mantiene suddito ma lo eleva al suo livello ad essere come lui. Si fa povero per farlo ricco condivide con l'uomo la sua dignità la sua dignità regale sacerdotale profetica esercita un solo potere quello dell'amore non si arricchisce facendoci poveri come fanno i re della terra che noi abbiamo scelto non ci impone tasse ma paga sempre lui al posto nostro e paga con la vita per la nostra libertà e beatitudine per questo si prende cura del nostro cuore non delle apparenze della comunione non della concorrenza del servizio non del potere della condivisione non dell'individualismo della verità non della menzogna del perdono non della vendetta della vita non della morte non impone ma donna e gratuitamente di chi è concretamente questo regno chi sono in altre parole quelli che hanno Gesù per re di essere poveri perché venga debellata ogni povertà attraverso la condivisione e la comunione quelli che credono fermamente che diventano beati e ricchi quando si fanno poveri e tali restano perché il regno di giustizia e di pace si diffonda e si manifesti nella vita di tutti gli uomini quelli che sono perseguitati perché restano fedeli a tale scelta e non si fermano dinanzi alla violenza del potere della menzogna della persecuzione della calunnia mai è così re Gesù come quando dinanzi a Pilato che crede di essere l'onnipotente proclama la sua regalità vestita da uomo debole e mette in evidenza l'impotenza di quel fantoccio vestito da Dio Dio vestito da uomo resta Dio e rende grande l'uomo l'uomo che si veste da Dio è solo il nulla che fa ribrezzo come Pilato beati i poveri e i perseguitati perché questi hanno Dio per re e tu tu quale re hai scelto per te l'uomo